Siamo alla domanda numero 160 del Catechismo ed è molto simpatica perché è una domanda che riguarda qualche cosa che noi facciamo tutti i giorni se siamo buoni cristiani. Che significa la parola Amen? La parola Amen significa in verità così è e così sia e con essa confermiamo essere vero tutto quello che confessiamo nel credo e ci auguriamo la remissione dei peccati, la risurrezione alla gloria e alla vita eterna in Dio. Quante volte nelle nostre preghiere in particolare poi alla fine del credo che è il sunto di tutta la nostra fede noi diciamo Amen, così sia, così è, io credo a questo, questa è la verità, questa è la verità. In Africa, quando vivevo in Africa, ricordo, facevo delle prediche e quando l'uditorio era particolarmente colpito e toccato da quello che diceva, dicevano Amen, Amen. O anche in America è la stessa cosa. Simpatico. Da noi purtroppo non c'è questo uso di Amen per dire sì, è proprio la verità, stai toccando il mio cuore, riconosco che è la verità questa. Purtroppo non c'è, perché? Perché purtroppo ci siamo scristianizzati. Questa è la realtà dei fatti. Ci siamo scristianizzati. Anche la parola Amen lo diciamo per dire basta, che noia, sono stufo. Quando la lezione diventa troppo lunga diciamo Amen, Amen per dire finiscila una buona volta. Cioè abbiamo ridotto una cosa così santa, così bella, così grande come il così sia, così è, questa è la verità che Gesù lo diceva quando troviamo nel Vangelo in verità, in verità vi dico, è Amen, Amen dico vobes, Amen, Amen dico vobes, dico a voi. Abbiamo ridotto una cosa così santa a un uso improprio, volgare e addirittura con mancanza di rispetto. Allora Amen è quasi quasi il sunto di tutta la nostra fede, è dire sì a Dio, sì, tu sei la verità, quello che tu dici, quello che tu fai, quello che tu vuoi è il bene. Amen a te Dio, a te Gesù, non a quello che io voglio, a quello che sento, a quello che mi viene voglia di fare, no, Amen al credo che la Chiesa mi ha dato da credere perché è quella fede che conduce alla vita eterna. Amen al catechismo, Amen al credo, Amen al Padre nostro, a tutte le preghiere che facciamo, perché questa è la via del paradiso. Che significa la parola Amen? La parola Amen significa in verità, così è e così sia, e con essa confermiamo essere vero tutto quello che confessiamo nel credo e ci auguriamo la remissione dei peccati, la risurrezione alla gloria e la vita eterna in Dio. Grazie a tutti Grazie a tutti